Quando lo picco, basta? Pronto? Terzo piatto! Il fratello! Il fratello di Simone Camilo! È arrivato per una sorpresa! Coriandolone! Un super coriandolo! Simone? Simone? Sì, Alex? Sei contento che abbiamo fatto arrivare tuo fratello? La sorpresa più bella che nessun piatto mi possa dare in questo momento! Grazie mille! Danilo! Non vi vedete da quanto tempo? Ciao Danilo! Troppo tempo! Più di un mese! Ma che effetto vi fa? La sorpresa più bella che potevate fare! Sembra molto più affezionata alla trippa che a te! Sono arrivato io! Simone, hai più la voglia di stare con tuo fratello o di mangiare quei piatti che sono lì? Grazie! 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 Grazie!